Neanche il terremoto ha fatto cambiare i piani a un gruppo di malviventi che nella notte ha fatto saltare in aria lo sportello Bancomat della Banca Popolare Pugliese a Campomarino. Un forte boato, bagliori nel buio, qualcuno ha pensato a una nuova scossa e invece intorno alle 4 lo sportello di piazza Skanderberg, zona centrale del paese, è stato scassinato con la tecnica della cosiddetta marmotta. Esplosivo infilato attraverso una paletta nella fessura delle banconote, la cassa è stata squarciata dall'esplosione e i banditi sono fuggiti via con l'incasso. 3.000 euro il bottino, le telecamere di video sorveglianza hanno ripreso tutto ma non è stato ancora possibile visionare i filmati considerata la giornata festiva di Ferragosto e l'impossibilità a trovare tecnici. Sul posto per i rilievi e per le indagini i carabinieri di Campomarino coordinati dal maresciallo Arturo D'Amico. Al momento non ci sono testimoni, elementi utili alle indagini potranno arrivare solo dalle registrazioni delle telecamere.